Da Piazza Plebiscito a Lungomare il Capodanno 2019 a Napoli sarà una lunga notte di musica e divertimento. Si parte come ogni anno in Piazza Plebiscito dalle 21 e 30 con i giovani artisti della Camp Academy e tanti ospiti della musica napoletana, da Sal Da Vinci a Franco Ricciardi e Andrea Sannino, ma la vera protagonista della serata sarà Amy Stewart che con Gerardo Di Lella e la sua dance orchestra riproporrà i brani più celebri ed emozionanti degli ultimi 50 anni. Ospiti d'eccezione sul palco del Plebiscito anche il rapper salernitano Rocco Ant insieme ad Ivan Granatino. La musica è la grande protagonista delle feste di Natale di quest'anno, abbiamo aperto a Piazza del Plebiscito con Eugenio Bennato, stiamo proseguendo con Sacro Sud di Enzo Avitabile e andremo avanti così con grandi eventi musicali fino ai concerti dell'Epifania che continuano in grandi luoghi dell'identità, della storia e del sentimento religioso di Napoli. Abbiamo veramente una città piena di turisti con una grande partecipazione, penso che avremo veramente una grandissima partecipazione e quindi il mio appello a tutti i nostri concittadini di avere una grande collaborazione, aiutarci tutti a fare in modo che tutto avvenga in tranquillità, sicurezza ed allegria. Ma la grande festa di Napoli trasmessa in diretta televisiva sui canali di Chischissi Italia non è soltanto in piazza. Quattro palchi saranno allestiti sul lungomare che dopo i tradizionali fuochi d'artificio a Castel del Lovo si trasformerà in una grande discoteca all'aperto, concerti a Piazza Vittoria, musica densa alla Rotonda Diaz, ritmi latino-americani in via Partenope e revival al Borgo Marinari. Il 31 dicembre funzioneranno non stop la linea 1 metropolitana e le stazioni Chiaia e centrale della funicolare. La cultura, l'incontro, la festa testimoniano proprio questo, che Napoli è tutta nata storia. Grazie.